Sono venuta con lo stesso spirito di 30 anni fa, non sono mai venuta qui con l'intento di vincere, come dice lui un angolino del cuore, non dico che non sono ipocrita, tutti ci sperano, non siamo qui in gara per cui tutti speriamo di vincere, però insomma modestamente penso che in tutti gli anni, nell'81 un caffè nero bollente, nell'84 come si cambia, quelle donne non dicono e le notti di maggio sono rimaste nella storia della nostra musica, io spero che questa canzone faccia lo stesso percorso.